Sì, è stato damagato, l'interno sull'altra parte era abbastanza damagato, quindi sicuramente questo costa un po' Sfortunatamente potremmo continuare e ancora ottenere alcuni punti, credo che il P5 era lì, ma si è un po' un po' un po' con il traffico Ma è così, è come si va Posso chiederti se è un weekend in cui Biazzonia essere un po' arrabbiati, pensando alla competitività che avete dimostrato qui su questa pista? Credo che il pace era lì, quindi non possiamo essere felici con i due carri nei punti, ma molto più vicino di quello che dovremmo Credo che abbiamo avuto una buona chance di finire con i due carri oggi sul podio, e sembrava tutto in turn 1 Puoi guardare in maniera positiva, pensando a Monza, sapendo come siete andati bene qui? Credo che abbiamo fatto un passo, abbiamo avuto alcuni punti, che sembra funzionare, quindi è positivo Monza è completamente diverso, ma più simile a qui, ma probabilmente in altri paesi, quindi dovrebbe essere bello